We are the Eurokits, take us alone! Soprannome Bibo Età 34 Quadra in cui giochi Atletico Senigallia Numero di maglia 14 Ruolo Centrocampista Numero di scarpe 43 Destro o sinistro? Sinistro Destra o sinistra? Facci la smorfia più brutta che sai fare L'allenatore migliore che hai avuto nel torneo aziendale? Mister Linghelli Il calciatore più forte del torneo aziendale? Jacopo Coriandolo Cerusici A chi passi volentieri la palla nella tua squadra? Jacopo Coriandolo Cerusici A chi passi volentieri la palla fuori dal campo? Alberto Scrigno Giraldi Sei più veloce nel dribbling o nel fare l'amore? Nel fare l'amore Il piatto preferito? Carbonara Da cosa ti vestirai a carnevale? Da incredibile Perché c'ho già il vestito l'anno scorso La parolaccia che dici più spesso? Cavoli Squadra del cuore? La Lazio Situazione sentimentale? Accoppiato Un aggettivo per definire il mister? Superlativo Ecco, adesso di quello vero Superlativo Una cosa che non hai mai fatto ma che hai sempre voluto fare in mezzo al campo? Altare cinque uomini e buttare la palla sotto il set Una cosa che non hai mai fatto ma che hai sempre voluto fare fuori dal campo? Ubriacarmi Una cosa che non hai mai fatto ma che hai sempre voluto fare fuori dal campo? Ubriacarmi Il gol più bello che hai fatto? Facci la telecronaca Calcio di inizio Dopo cinque minuti Gallino prende palla Arriva in fondo Crossa in mezzo Prende la palla Salta un uomo Rasa terra sul secondo palo 1-0 per noi Risultato finale 5-1 per loro Decisivo Come sempre Esprimi un desiderio per questa stagione sportiva Fare gol Hai 10 secondi per convincere il mister a farti giocare Mister, è arrivato il mio momento, fammi giocare che faccio il primo mondo Hai 10 secondi per convincere il mister a farti fare la formazione Mister, se mi dai la possibilità di fare la squadra, ti faccio vincere e ti cambio totalmente tutti i giocatori Che ruolo hai all'interno dello spogliatoio? Punto di riferimento Birretta prima o dopo la partita? Prima, durante e dopo Da piccolo volevi fare il? Calciatore Reagisci a un calcio di rigore ingiusto Nooo Reagisci a un gol sbagliato da un tuo compagno Che schifo Esulta per un tuo gol Sì Record di giornati di squalifica Mai squalificato Che cosa pensi quando l'allenatore non ti fa giocare? Che bastard Adesso dì la verità Che bastard Incita un tuo compagno Dai, corriandolo, dai Simula un'incornata. Insulta ingiustamente l'arbitro. Insulta giustamente l'arbitro. In cosa sei imbattibile? Tre caratteristiche per una squadra vincente. Gruppo, voglia, cattiveria. Qualcuno dice Verón e qualcuno dice Roman Crosta. Roman Crosta. È un dacchi giocatore. L'arbitro più simpatico del torneo. Non lo conosco. L'arbitro meno simpatico del torneo. Non lo conosco. Completa la frase. La miglior tifosa è quella che... Me la dà da Pondola. Come ti insulta il tuo mister? Vivo, non ti ci metterà anche te. Cribbio. Ecco, adesso di quello vero. Zio camion! Nello spogliatoio si parla di... Di ragazze, di ragazze. Perché giochi nella Wisp e non in FGC? Che differenza c'è? Calcio o d'altro calcio? Calcio. Cosa pensi che penseranno quelli che vedranno quest'intervista? Che spiegati. Saluta tutti quelli che vedranno quest'intervista. Ciao spiegati.